La questione treni con i ritardi e i disagi per i pendolari diventa materia di scontro politico. Da un lato la Lega chiede la testa dell'assessore ai trasporti Baccelli con fratelli d'Italia che rigira il coltello nella piaga. Dall'altra il capogruppo del PD Vincenzo Ceccarelli non ci sta e ribatte per le rime in merito chiamando in causa il governo. Una situazione che si protrae da decenni e guarda caso il PD se ne accorge proprio adesso. Noi siamo da sempre vicini agli utenti che subiscono disagi e disservizi e crediamo che non si possono obbligare i cittadini a prendere i mezzi pubblici quando non ci sono alternative né su gomma né su ferro. Abbiamo fatto un giro con i nostri sindaci, con i nostri amministratori locali per capire qual era lo stato dell'arte. Abbiamo cittadini fermi alla stazione e abbiamo persone pendolari fermi alle fermate degli autobus che aspettano ore affinché un autobus passi. La Regione Toscana investe 260 milioni l'anno per il servizio regionale. Ha firmato un contratto nel 2019 che prevede la fornitura di 100 treni nuovi, ne sono già arrivati 50. Ma prevede anche il miglioramento degli standard di qualità del servizio. Invece stiamo assistendo ad un deterioramento, ad un tornare indietro. La Giunta, il Presidente e l'Assessore sono impegnati a rivendicare il rispetto del contratto e presenteremo un atto in consiglio perché si apra da parte del Ministro competente un tavolo con i gestori affinché si provveda a risolvere le problematiche.